Ah, Chiara, dove hai nascosto le mie litra? Sono la cosa più preziosa che ho! Eh, devi andare a cercare, devi andare a cercare! Va bene, va bene! Poi però ti nascondo anch'io qualcosa, eh! Va bene, mi sembra giusto, dai! Giustamente! Allora, dimmi un po' la direzione, da questa parte per caso? Sì, ci sta da quella parte! Ok, allora io procedo da questa parte, prendo anche guarda questo fiorellino qua! Sì, assolutamente, assolutamente! Cosa? Ma come ti permetti di fare questi versi purpurbi? Da questa parte? Ah, forse da questa parte! Sì, da questa parte, vai! Ok, ok, allora però devi dire acqua, fuoco, aria e al vento! Ah, ok! Va bene, stai andando verso il fuoco! Ok, da questa? No, là, il fuoco si spegne! Ah, che pa... Va bene, da questa parte! Sì, era acceso, sì, era acceso! Eh, ma scusa, ma dai, ma... Ti pareva, vabbè, il vero ragazzo è... Vabbè, non parlo ancora! Da questa parte? Dove c'è? No, di... E lì il fuoco, diciamo, inizia a spegnersi di nuovo! Eh, per il quale io ho spento, totalmente! No, ma che noia! Tu sempre spento, vai! Sempre, sempre spento! Da questa invece? No, qui non c'è niente! Eh, beh, ma forse qua... Forse, forse qua... Eh, se io premo... Mi sembra strano, cara! Da questa parte... Io mi sembra un po' strano, però... Hai saltato un piccolo passaggio! Guarda! Davvero? No, di lì vai verso l'acqua! Non ci conviene andare! Un piccolo passaggio! Sì, un piccolo passaggio! L'hai pure toccato! Ma... No! Ah! No, vabbè! Non è niente! Ma... No, non sto capendo! Perché... No! Perché questa... Questa, ragazzi, dovete sapere che questa è la casa di Angelo e Chiara! E, a quanto ho capito, c'è una sorta di passaggio segreto, giusto, Chiara? Sì, segreto, sì, però non c'hanno le ricchezze, quindi... Eh! Sì, tranquillo! Sì, vabbè! Hai preso il fiore? Non funziona, però vedo, cara Chiara! Ma ci sei sbattuto sopra, cioè... Come te lo posso dire? Cosa? Cosa stai dicendo? Ma che volgare che sei! Sei sbattuto, cioè... Ma cosa... Ma cosa... Chiara, io veramente sciocco basito, cioè... Ma dove ci ho sbattuto? Non voglio vedere! Da questa parte? No, qui non ci sei neanche arrivato! Ma... No, vabbè! Ci ho sbattuto sopra, ma cosa... Davanti c'è... Un quadro? Sì! No, vabbè! Da questa parte, ok, giù! Mamma mia, che cosa... A quanto difficile! Sì, esatto, però comunque qua io non ho ancora trovato le mie litra! Dove sono? Eh, sono nascoste! Eh, vedo che l'hai nascoste... Dai, è facile! È facile? È facile! Dov'è? Ma io non ho... Duniziani voi l'avete visto sicuramente! Allora, di là o poi verso l'acqua? Di là! Ok, quindi da questa parte? Ah! Eccola qua! Eccola, le trovate! Le ho trovate, le ho trovate! Prendi la cesta che... No, 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 scherzo, devo prendere... Vabbè, grazie, grazie, dammela! Ok, perfetto! Adesso ti nasconderò io delle cose, cara e chiara, e tu non potrai guardare! Questa è la mia shulker, dove sono le mie ricchezze! Vediamo che ricchezza che... Un sacco di ricchezza! Non guardiamo troppo perché sennò poi dopo privacy, eh! Magari... No, vabbè, che privacy non c'è niente di... Magari ci sono le cose femminili, cosa ne so, magari, non so... No, no, no! Eh, no? Ok, ok! No, però perché c'è notte questa cosa fa arrabbiare Duniz! Questa cosa non va bene! Questa cosa non va bene, infatti... Andiamo a dormire! Infatti, no, non andiamo a dormire, ma facciamo... Slash time set day! Facciamo direttamente così, esatto, perché poi tanto dopo... Allora, tu, Chiara, non guardare, assolutamente, è vietato guardare! No, mi schiacci qua qua! Non fare la schifosa, sai? Ok, schiacci per... No, non ci preoccupare! Ok, e adesso... Questa è divertente! Esattamente, esattamente, proprio così! E adesso, Duniziani, guardate, uso queste cose per volare! E le litra, oh, sì! Esattamente, molto bello usare le litra, Duniziani! Voi cosa ne pensate? Però, secondo me, tu hai capito più o meno in che direzione andavo? No, non l'ho capito per niente, fidati! Ok, perché io ho capito dove andare! Io ho capito assolutamente dove andare! No, più che altro, cioè, tu mi dovrai dire acqua a fuoco, quindi lo capirò comunque! E beh, questo in effetti è anche vero, cara Chiara! Però, devi considerare un'ultima cosa! Vabbè, non ti dico, non ti dico, per ora non ti dico! Che direi dopo? Ragazzi, questa può essere una cosa abbastanza complicata da capire, anche perché poi qua si... La muffa molto bene, quindi... Però, tranquilli che adesso Duniz cerca di spiegare bene alla povera chiacchiera dove sono, come si fa, come funziona la vita, eccetera! Alla povera me! Ok, Chiara, puoi girarti, assolutamente sì! Allora, prendi il tuo fiore fortunato! Grazie! Molto bene! E adesso, vediamo un attimo dove potrebbe essere questa cosa, vai, scegli una direzione! Di qua? Di qua, acqua, devo dire, acqua, più o meno, acqua! Di qua? Di qua, eh beh, fuoco in effetti, da questa parte sta diventando un po' fuoco! E ti dico che se vai da questa parte potresti anche camminare per un bel po' e il fuoco continua a diversificare! Da questa parte c'è un cartello, no scherzo! Cosa fa chi è stata a fare sta roba? Sei stata tu per forza! Come ti permetti? Ma poi scusa, ma davvero questo è un easter egg! Non me l'aspettavo comunque! Hai visto? Giuro che questa cosa non è stata una preparazione, ragazzi, sinceramente! L'ho fatta prima proprio! Esatto, esatto, che puzzona, puzzacchiona proprio! Ma che schifo che fai, no, no, basta, mi sono offesa! No, sei una puzzacchiona un pochino! Qua se entri dentro, puoi provare ad entrare, a vedere un attimo, però, secondo me là non c'è niente! Faccio accompagnare un golem! Esatto, com'è che si chiamava? Eh, Giubertone Scagazzone! Ok, Giubertone Scagazzone, molto... Vabbè, usciamo però, dai, usciamo che non è qua! Posso dirti che... Esatto, da questa parte più o meno si arriva, perfetto, bravo, qua, il fuoco... Non è la sposta, la mia bella shulker! Eh, la tua bella shulker, guarda, ti posso dare un indizio, se vuoi, perché... Allora, l'indizio è che non è a terra! Ah, in che senso non è a terra? Non è a terra, cara, chiara! Nel senso non è qua, non è qua! Tu puoi cercare, sarà sempre acqua qua, sarà sempre acqua, quindi dovrai capire bene dove potrei... Perché se io prima ho usato l'elitra... Sulla torre? Non ti dico, puoi provare, puoi provare! Prova ad usare, prova ad andare... Ok, però, mi raccomando, parla anche perché siamo in due, quindi se non parliamo noi due... Sì, sto parlando, allora... Eh, come ci arrivo là sopra? Eh, ma tu non hai l'elitra! No, era nella shulker! Ah, mannaggia, ma sai qual è il problema, cara chiara? Che stai parlando... Che mi stai rispondendo... No, che stai... Mi stai rispondendo basso! No, vabbè, aspetta un attimo, posso risolvere immediatamente questa tua situazione complicata! Va bene, io non guardo allora! Esatto, non guardare che fa meglio! Però, prima di tutto, tu mi stavi rispondendo in ritardo, come ti sei permessa a rispondere così? No, ma veramente, hai chiuso a raggare, quindi scusami, non l'ho fatta apposta! Non mi direi che sono io il problema, perché... No, no, credo di essere io il problema, non ti preoccupare! Perché prima l'accavo! Ma dov'è che sei, scusami, perché io veramente non sono... Sono qui sotto! Non è possibile! Ah, ah, ok, si dice, molto bene! Tieni le tue bellissime elitra! Grazie! E vola con... No, certo, ti devo dare tutto io, tutto, tutto, tutto io! E non mi riapportati! Vabbè, vabbè, usa i miei! Allora, puoi volare e vediamo un attimo... Ho fatto un casino con la tastiera, Dunedini! E controlla un attimo dall'alto! Niente, niente, fai finta! Controlla un attimo dall'alto! Potrebbe essere più o meno ovunque! Vediamo un attimo se ci arriva, Dunedini! Eh, sto controllando! Oh, porca pippola! Puzzola, eh! Vediamo un attimo se ci arriva da... Puzzola! Vediamo, eh, guardatela come... Come swinga, no? Come fa tutta quanta la... Con le wing... Se vuol dire swinga! Sì, 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 le wings! Sai cosa sono le wings? Sì, le wings, sì, le guardavo la piccola! Esattamente! Guardate come sta cercando di controllare bene con il suo sguardo feroce! Però ti devo dire che se sali è sempre più fuoco! Più salendo più fuoco! Più sali più fuoco! Ok, allora continuerò a salire! Esatto, fino ad una certa perché poi chiaramente dovrei usarle litra, cara Chiara! Per forza, se no, altrimenti... Ma da... Io non ci posso credere! L'ignoranza di Chiara, Dunisiani, è... Non lo so, una roba indescrivibile! Una roba veramente pazzuta! Mi piangono, mi si sono aperte le litre! Eh sì! Fai bene a piangere, fai bene anche a disperarti, sai, cara Chiara! Perché io adesso voglio guardare... Leppere! Non è giusto! Io devo andare a piedi, però... Eh, esatto, mi spiace molto per questo... Ci sono trent'anni! Eh beh, ma mi spiace! A volte nella vita, purtroppo, possono capitare queste situazioni... Ma Dunisiani ci sta mettendo tantissimo! Cioè, ok che sono stato forse un po' cattivello, eh! Può darsi! Eh beh, direi! Invece arrivo là sopra! Può anche darsi! Però io ti posso dare anche un indizio, un indizio, un indizietto... Ok, dammi l'indizio! L'ho accetto! No, però non è... Non è un indizio a parole, è un indizio a visione! Cioè, se tu mi vedi dove sono ora, Praticamente hai già capito dove sono? No, non ti vedo! Esatto, esatto, esatto! Però io posso vedere il tuo piccolo nomignolo! Il mio piccolo nomignolo? Esattamente! Perché io sto shiftato adesso, quindi è ovvio che non mi faccio vedere... Non è che ti do l'indizio così semplice... Però potrei farmi vedere un attimo la testolina... È un pochino velocemente... Vediamo se riesci a vedermi... Tipo così... No, continuo a non vederti! No, è impossibile che non mi hai visto adesso, non dir cagavolate! C'è cagavolate! No, no, seriamente, non ti ho visto! Non mi hai visto, ma seriamente! Ma c'è, Duniziani, secondo me, ha la render distance a 1... A 12! A 12, non vedi... Oh, porca miseria, porca miseria, Duniziani! L'hai vista! Eh, l'hai vista! Eh, porca miseria, l'ha trovata! L'ha trovata, brava, brava, brava! Ha trovato la sua amata sciulchere! Cara, chiara, adesso possiamo scendere qua! Volare, cantare... Cosa sto dicendo? Siamo due uccelli! Siamo due uccelli, quindi Duniziani! Io direi che questo video è stato molto bello! A me è piaciuto molto registrarlo! Sì, è stato divertente! Esatto! Tra me quando sono morta! Eh, beh, beh, quando sei morta sei stato un po' imbecille, cara chiara! Io spero che non succeda più, mai più una cosa del genere, perché sennò poi dopo... Duniziani si innervosisce e poi ti punisce! Con la torcia nel sederisce! No, no, povera me! Poi c'è... Eh, esatto, perché poi la brucia tutto, altro che fuoco, acqua! Là è proprio lava! Un incendio! Un incendio, proprio brutto, brutto, brutto! E qua adesso i due uccelli volano! Uccelloni! Ma io non sto volando! Volaccioni! E mi spiace! Guardate, Duniz, come volacciona! Oh, porca mia! Duniziani! Oddio, sto precipitando! Eh, hai visto? Queste lì dire sono pericolosissime comunque! Io, secondo me, quelle che le hanno aggiunte sono state molto bravi però ad aggiungerle! Però, vabbè! Comunque! Duniziani, se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, mettete un emoji di... Tipo una X rossa che quella è... Di un uccello! No, scherzi! No, di una X rossa perché quella praticamente simboleggia il tesoro, no? Avete presente la mappa del tesoro con la X rossa? Ecco, dovete mettere una X rossa nei commenti così Duniz capirà assolutamente quello che deve e quello che non deve! Cioè, nel senso, se vi è piaciuto questo video, se ti arrivate poi fino a questo punto del video, mettete un sacco di X così, mamma mia! Iscrivetevi al canale, lasciate like! E mi raccomando, vi compaiono altri video e playlist, cliccatele e guardate altri bellissimi video e playlist, cosa sta facendo Chiara! Ok! Ok, ci vediamo al prossimo video! Ciao, Duniziani! Ciao!